In questi ultimi periodi sono aumentate le aggressioni a medici ed infermieri nel pronto soccorso ma anche in alcuni reparti del nostro ospedale. Non passa in secondo ordine la cosa che lei è stato nominato nell'osservatorio antiviolenza istituito dal Ministero della Sanità. Perché questa istituzione di questo servizio, di questo osservatorio e cosa sta succedendo nei nostri ospedali? Sì, l'osservatorio nasce con la legge 113 del 2020 che è una legge che è stata voluta per tentare di contrastare il fenomeno delle aggressioni. L'osservatorio in realtà nasce proprio per fare i numeri, per misurare il fenomeno e tentare così di contrastarlo. I più aggrediti in assoluto sono gli infermieri, poi ci sono i medici, poi gli operatori sociosanitari. Il genere più colpito, più aggredito ovviamente è quello femminile perché ad esempio il 78% degli infermieri sono di genere femminile. I luoghi più a rischio sono i pronto soccorso ma anche le aree di degenza ed è un fenomeno che si sta addirittura diffondendo con l'assistenza domiciliare. Mancano sia medici che infermieri. Gli operatori sanitari sono, cioè scontiamo un deficit del 30% rispetto alla media regionale. Come mai i giovani non hanno, non sentono, cioè ci sono pochi giovani che intraprendono questa professione? Perché c'è stata una scarsa attenzione di tutti i governi degli ultimi anni, degli ultimi 20-25 anni e ormai è diventata una questione infermieristica. Non si è lavorato molto per sottolineare le responsabilità e la professionalità di una categoria che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è decisiva, direi secondo chiunque, perché è l'unica professionalità presente in tutte le degenze H24 e di pari passo non sono aumentati i riconoscimenti economici, non è facile avere un percorso di carriera, qualcuno ci riesce ma con grandi sacrifici e sforzi e appunto non sono previsti particolari incentivi su situazioni di disagio. E sarebbe importante avere ad esempio l'infermieri di famiglia, che è una figura preziosa. Sarebbe fondamentale, aiuterebbe moltissimo anche il fenomeno del super afflusso ai pronto soccorsi. Bene, l'intervista completa a Francesco Falli, Presidente dell'Ordine degli Infermieri della nostra provincia, questa sera alle 21.30.